Buonasera amici di Liberi TV, io mi presento, sono Giovanna Scarfò, cantante e ballerina, ma questa sera mi presento a voi in una veste un pochino diversa, perché anche quest'anno ho avuto la fortuna di essere scelta come direttore artistico di questa manifestazione bellissima che è il Primer Etno Fest, un festival dove la musica popolare, la musica del sud la fa da padrona e che nasce in concomitanza con questa festività, la varia di palmi, patrimonio dell'UNESCO, che è oramai diventata di patrimonio nazionale e internazionale. Il festival nasce appunto per valorizzare quelle che sono le tradizioni del sud, la musica del sud, della musica dei popoli del sud. Quest'anno giunge alla sua seconda edizione con un entourage di tutto rispetto in una staffetta musicale che vedrà protagonisti tre grandi pilastri della musica popolare del sud, tra cui Eugenio Bennato per la Campania, Mario Incudine per la Sicilia e Cosimo Papandrea per la Calabria. Ad aprire il concerto, l'incalzante suono dei tamburi di Luca Scorziello, a richiamare un po' quella che è la madre Africa, la madre che dà vita a tutte le cose. Noi saremo, la manifestazione si svolgerà giorno 24 a Palmi, il sabato della varia. Niente, vi aspettiamo tutti numerosi e a presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.